ciao ragazzi allora mi sono di nuovo portato un po di lavoro da fare a casa ma stavolta partirò molto più avvantaggiato perché i miei amici sonia e samuele mi hanno già fatto un ottimo lavoro ha insegnato guinzagli a questi cuccioli quindi diciamo il lavoro sporco l'hanno fatto loro a me basterà fare un po di prove stare un po con loro fare un po di verifiche mi sembra che qualcosa di buono in questa cucciolata ci sia ma il tema della del mio video di oggi non è questo l'avete visto nel titolo non basta chiedermi l'amicizia per poi diventare dei cinofili succede sempre più spesso che persone acquistano un cucciolo magari dalla razza che allevo io simili cani da gregge o in generale poi mi chiedono l'amicizia e iniziano a seguirmi vi dicono nel caso che mi chiedate l'amicizia basta che mettiate un mi piace in una delle mie pagine c'è poi quella maria romano cani da guardia e sicurezza che senza che diventiamo amici li potete seguire tutti i miei figli allora non vorrei parlare di chi mi chiede l'amicizia e crede che dopo che siamo diventati amici su facebook può iniziare a chiedermi 8.000 consigli perché quelli siccome io gli ipocriti li detesto li blocco subito io l'amicizia però la do sempre facilmente a chiunque fin quando le persone seguono i miei video non mi rendono a rompere il cazzo mentre sto lavorando io non ho problema altrimenti li blocco e sono sempre sereno nello stesso modo dedico la mia cinofilia alle persone che la prezzo eccetera però è proprio a queste persone che io mi voglio rivolgere guardate in questo momento io sto preparando un percorso per chi alla fine del mese di marzo il 29 vorrà dare l'esame con me con una commissione insomma per queste due qualifiche di educatore cinofilo e recupero cani aggressivi e anche consulente cinofilo vabbè ogni tanto qualcuno mi chiede tutte le informazioni e poi mi dice credevo si parlasse di altre cifre un titolo costa 2000 euro fatto di tutti quanti i video corsi eccetera su per giù io dico 2000 euro è ciò che ho sempre speso io non sono in un aereo ad esempio andare in asia centrale andata ritorno con di spostamenti qualcosa però non entro in merito a chi non li voglia a spendere i soldi per farsi una cultura o chi non possa perché chi non li voglia cioè gli avari o chi non possa i poveri purtroppo mi fanno un po difficoltà a starmi dietro posso solo dire che io per imparare la cinofilia non sono stato avaro speso molti risparmi per girare il mondo e sul discorso della povertà sono nato molto povero poi ho lavorato molto e in qualche modo mi sono dato una sistematica infatti quelli che mi dicono che sono un venditore di pentole che assomiglia vanna marchi solo perché ogni giorno pubblico un video forse loro lo fanno per offendermi per me è un onore per le mie pentole ho sempre fatto una vita da dio fatto sempre star bene la mia famiglia mi permetto più o meno ciò che voglio eccetera quindi ma non è questo discorso mi voglio rivolgere a quelli che mi chiedono l'amicizia oppure mi mettono un mi piace dopo mi seguono e sembra anche con entusiasmo perché poi mi mettono qui mi piace sui post mi mettono dei commenti favorevoli e tutto e poi siccome diventiamo amici a volte io vedo i loro post dunque mi seguite mettete mi piace mi mi mettete dei commenti poi avete comprato un cucciolo una cucciola anche di pastore dell'asia centrale ve l'ho regalata non cambia niente e la tenete in casa e avete messo un collarino l'avete adottata 60 giorni io sempre detto che non va fatto la crescerete da sola la poretta rete a spasso come fosse un qualsiasi cane la compagnia non vi sognate minimamente di applicare un millesimo di ciò che normalmente nei video spiego sono anche persone che dicono ma io non faccio i miei corsi sui corsi perché ho già imparato abbastanza nei suoi video io sono contento sappiate che normalmente tutti quelli che poi hanno fatto i miei corsi hanno seguito i miei video corsi che mi seguivano già da tanto tempo e beh quando sono arrivati a conosceva conoscere quella che realmente la cinofilia naturale come si applica eccetera e poi mi hanno detto che non la cambierebbero mai più perché dicono è un altro modo di concepire il cane mi sono mi si è aperto un mondo e tra l'altro si apre sempre un mondo di risparmio perché indipendentemente che voi vi siete fatti regalare il cucciolo avete cercato quello che costa di meno nella vita di un cane a meno che non siate uno sciagurato ma io non vorrei comunque avere clienti sciagurati voi butterete via 5 6 mila euro per cose che farete guai che vi andrete a cacciare perché non conoscete la cinofilia ma questo è una cosa alla quale mi sono abituato fortunatamente come ho clienti che prima di farsi rubare mettono dei cani fanno un percorso si danno una sistemata e o anche persone che studiano per evitare di buttare via dei loro soldi buttare del tempo eccetera però quello che voglio dire oggi era proprio questo indipendentemente dei percorsi che faccio io indipendentemente dall'amicizia che la do a tutti ma non basta cioè diventare i miei amici mettermi mi piace fare continuare a fare come sempre avete fatto come magari state sentendo me imparate sul forum e pensare di evolvere perché è una cosa veramente ridicola mi aspetterei dalle persone che mi chiedono l'amicizia che poi mi mettono i commenti e che poi applichino le cose perché se io vi dico che un cane meglio adottarlo verso i 5 6 mesi nonostante io ne abbia sempre di piccoli ma li tengo eccetera che questo va tutto a vantaggio e voi invece vi andate a prendere un cucciolo di 60 giorni anzi come lo vedete lo riempite di baci e di cuori che cazzo mi seguite a fare ecco questo era il video di oggi perché al di là di tutto io ho centinaia di migliaia di persone che mi seguono mi fa piacere mi dà soddisfazione quando le persone mi seguono ma poi mettono in pratica quello che dico se no rimangono sempre parole invece c'è un detto che dice lavora duro in silenzio e lascia che sia i tuoi risultati a fare rumore e in sintesi bisognerebbe fare così con tutto e anche un po con i cani bene vi ringrazio anche oggi di avermi seguito vi auguro a tutti buona giornata io adesso mi metto al lavoro presto